Come andiamo viaggiando? E con che intensità, e di cerchi incessanti, e di funghi, e le balze di luce di là dalle forne. Camminavo al mattino, e il mio malumore pesava, e un passo alla volta si moltiplicava stringendo la gola e il pensiero. Davvero? Ero lì? Nel posto invernale, e mi commisavo pensando agli errori, dal male, senza nulla sapere, senza altro vedere. Qualcosa improvviso trasalì nei miei passi, uno sguardo, più sguardi. Erano forse i cipressi dintorno alla piede, e sentì che la neve, già da qualche minuto cadeva, copiosa, silenziosa. Mi fermai trassognato, e ormai rivestato, sentì le mie mani allentare la presa da dentro le tasche, e con mia sorpresa, io vidi i cipressi, io vidi la neve, vidi nevicare senza quel velo, e lasciandomi indietro a ciò che ormai mi era greve, Io, con i cipressi, nevicare senza quel velo, e la neve, 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 Però io neставляo, ma caricazione, neanche qui non sa quel velo, e la neve, e la neve, e la neve. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.